Ben trovati alla redazione di Firenze Smart, Cesare Martignoni in vostra compagnia. In A1, rallentamenti per traffico verso nord, tra Calenzano e il BV1 varianti. In A12 troviamo Coda alla barriera di Rosignano in direzione Rosignano. In FIPILI per incidente, Coda tra il BV di Ramazione per Pisa e Lavoria in direzione Livorno. Coda per viabilità esterna che non riceve in uscita da Strassigna per chi proviene da Firenze. Sulla Siena Firenze lavori di manutenzione programmata dal 23 al 27 settembre. Sarà interessato il tratto di carreggiata sud, compreso tra San Donato e Poggi Bonsi Nord. Per il traffico ferroviario permane sospesa la circolazione sulla Faentina tra Marradi e Faenza, sia oggi che domani. Fino al 16 ottobre 2024 è nuovamente possibile accedere alla promozione bonus TPL Firenze per l'acquisto di abbonamenti annuali al servizio di trasporto pubblico locale, bus, tranvia, treno cittadino. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.